Italia Emergenza, questa mattina un presidio in piazza per chiedere che cosa? Stamattina eravamo di fronte all'ASA 5 perché i lavoratori di Italia Emergenza sono senza stipendio e non sanno quando gli pagheranno questi stipendi. Diciamo che siamo stati avvisati con una lettera dell'azienda in data 17 novembre che non potranno essere elargite gli stipendi secondo prassi. Però senza stabilire e dirci il ritardo a quanto ammontava. Ora siccome non abbiamo avuto certezze dall'azienda, i lavoratori iniziano a scalpitare e ci hanno chiesto di intervenire. Diciamo che noi abbiamo richiesto subitamente un incontro all'ASA per capire la natura di questo ritardo per capire soprattutto se non fosse legato come pensiamo a un rinnovo che non c'è del documento unico di regolarità contributiva perché questo comporterebbe dei tempi molto più lunghi. Insomma, e quindi andando anche incontro alla fase natalizia, diciamo che dobbiamo adoperarci per fare in modo che magari anche l'ASL possa intervenire per pagare gli stipendi, magari defalcando la quota a parte che deve a Italia Emergenza per pressare un po' l'azienda affinché sia più celere nel retribuire queste aspettanze. Altrimenti ci troverà costretti a avviare lo stato di esitazione e a proclamare lo sciopero. Avete in programma altre iniziative di protesta? Intanto noi ci auguriamo che questa sia solo una situazione temporanea di difficoltà dell'impresa perché se il problema diventasse poi cronico è chiaro che la mancata presentazione del DURC impone all'ente committente il non pagamento di quanto dovuto. Quindi se questo fosse siamo estremamente preoccupati che magari risolto il problema adesso poi non si ripresenta il mese prossimo. Ovviamente le difficoltà ci sono, parliamo di lavoratori che percepiscono neppure 1000 euro al mese, molte donne monoreddito e quindi stiamo cercando in tutte le maniere di ricercare una soluzione. Devo essere sincero, il Dottor Cavagnaro ci ha dato disponibilità poco fa a essere ricevuti e quindi noi ci auguriamo che di concerto con Asler si possa trovare una soluzione. Devo essere sincero, anche l'azienda nei nostri confronti non è che si sia comportata benissimo perché a fronte anche dei nostri ripetuti solleciti al di là di uno scarno comunicato mandato dieci giorni fa non si è mai fatta sentire e questo noi riteniamo sia un comportamento corretto non tanto nei confronti dei sindacati ma quantomeno dei lavoratori.